Iniziamo? Iniziamo. Buongiorno a tutti e anche questa settimana un nuovo video. Salutate SP. SP saluta. Oggi, oggi voglio farvi vedere una cosa particolare. Sì, una cosa nuova. Tutti i trainers che fanno parte del nostro club. Sì, perché c'è un club. Anche SP ne fa parte. Hanno un loro stile. Scusami SP, devo lasciarti per terra. Ecco la nostra maglia. La maglia dei safety players. Scusami SP se ti ho lasciato andare un attimo. Lui si offende. Vuoi saperne di più? Metti un like alla pagina, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Salutate SP.